Un altro dramma come quello di Alessia Sbala, travolta da un tir a Roma, è avvenuto nelle scorse ore causando la morte di una giovane di 21 anni. Sfargete voce se qualcuno ha visto in data 8 dicembre 2022 in via della riserva Nuova Aprilia, ore circa 7.30 a 7.45 l'incidente dove è stata coinvolta mia figlia Martina Salvucci. Dai rilevamenti effettuati dalla polizia c'è qualcosa di anomalo. Hanno chiesto a chi vive lì, ma nessuno ha visto. Vi prego aiutatemi. 320-644-4780. Questo è il posto disperato scritto dalla mamma quando la figlia era in coma farmacologico al Santa Maria Goretti. Purtroppo poche ore dopo non ce l'ha fatta. Il dramma l'8 dicembre, quando la giovane stava percorrendo poco dopo le 7 via riserva nuova a bordo della sua Fiat 600 grigia, diretta al lavoro, quando per cause da accertare è finita contro il muretto di cinta di una casa. Nessuno purtroppo al momento sembra aver visto nulla e per tale ragione sono in corso le indagini per capire se ci siano meno responsabilità da attribuire a qualcuno o se la giovane abbia fatto tutto da sola, magari colta da un malore. Grazie a tutti.